i vostri nonni perché è proprio stata pensata per soddisfare quelle che sono le esigenze di tutte le età quindi sia dei bambini piccolissimi fino ai vostri nonni non dimenticando chi anche ha problemi di deambulazione che possono essere anche a lunga durata possono essere ad esempio anche quando ad esempio uno si rompe una gamba e dice oddio non posso più giocare invece questi giardini sono stati pensati proprio anche per chi ad esempio in carrozzina sale questa piccola salita dolce arriva e poi si lascia andare con lo scivolo poi pian piano vedendo dentro capirete un po' tutti i giochi ma non solo i giochi ci sono anche degli spazi verdi e in più questa è la prima area attrezzata di San Giovanni che abbia un impianto di irrigazione autonomo cadenzato che ogni tanto ogni tot ore vedrete dei gettini di acqua che consentono a quest'erba di diventare sempre più bella e rigogliosa e i giardini di diventare sempre più belli poi piano piano i buchi ci riempiranno diventerà proprio un verde nel vero senso della parola alle mie spalle i nuovissimi giardini intitolati ad antialighieri sono giardini che hanno visto circa 10 mesi di lavoro e offriamo alla nostra cittadinanza giardini che vanno sia dai piccoli fino ai nonni proprio perché ci saranno diversi spazi che potranno essere utilizzati in più modi sono giardini complessi perché? perché hanno richiesto una lavorazione complessa e in più sono dotati di una tecnologia avanzata quindi definirei un giardino, giardini con lo sguardo nel passato però proiettati al futuro e spero tanto che i bambini che vedete alle mie spalle si diventano sempre di più